Noi dobbiamo semplicemente andare a rileggerci le parole e l'insegnamento di uno dei grandi padri costituenti, Calamandrei, che parlando ai giovani decenni fa dava una lezione che è valida ancora oggi. Se volete scoprire dove sono state scritte le pagine della nostra Costituzione, andate in pellegrinaggio nelle montagne dove caddero i nostri partigiani, nelle prigioni dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, perché là dove è morto un italiano per la libertà e la dignità è nata la nostra Costituzione, che è il testamento di centomila vittime della resistenza, ma è soprattutto la carta fondamentale del nostro presente e del nostro futuro. E noi vogliamo commemorare e ricordare la memoria di Mario Fiorentini e con lui di tutti gli italiani e italiane che hanno combattuto per la nostra libertà, facendo vivere ogni giorno quei valori della nostra Costituzione, con le nostre azioni, con il nostro impegno, con la nostra testa e sulle nostre gambe. Viva il 25 aprile, viva la libertà, viva l'Italia!